Backstage? Pronti? Motore? Silenzio e azione! Quali foto ti riferivi a quelle con gli occhi più spintite? Infatti, io provo tutta la schiena. Poi un po' più sul braccio, fanno sul pantone, riuscire... Vieni un po' più verso di me, un passo subito per favore. E' un po' così disperato, no? Appoggi così anche il cielo, ti appoggi a lo sguardo. E' un gioco di alchimie, l'amore non dà peso alle fuggie, parole rubate. Poi due o tre passi, l'avanti di tre passi indietro. Sarebbe anche bello fare proprio tutto a bambolicchia, no? Tutto così, una parola. Piuttosto danza, cioè danza da sdraiata. Io ho messo il segno e ho segnato anche la coniglie della nostra... Ed è proprio con le punte? Sì, sì. E' un gioco di alchimie, l'amore non dà peso alle fuggie, parole rubate. E' un gioco di alchimie, come devi portarti la tua attività? Meno chirurgica. E' un gioco. E' un gioco di alchimie.